Un incontro piuttosto partecipato, quello che si è tenuto ieri sera nella sede della CGL a Carbonia per la presentazione dell'ultimo romanzo di Angelo Ferracuti, Addio. Il libro, un reportage che parla di lavoro, della sua fine e del nostro territorio, dalla nascita delle miniere ai giorni nostri, raccoglie numerose testimonianze di persone del posto intervistate dall'autore. Un libro che ha senz'altro fatto discutere e riflettere sulla politica industriale adottata, raccontata da un occhio esterno e attento e non sempre condivisibile. Manolo Muretu ha intervistato per noi l'autore Angelo Ferracuti e il segretario della Camera del Lavoro, Roberto Puddo. Siamo in compagnia di Angelo Ferracuti, qui nel Sul Cisiglesente, oggi per presentare il suo libro dal titolo Addio. Un libro che parla della crisi industriale, mineraria e più in generale della crisi del territorio. Sì, era da tanto tempo che volevo fare un libro sulla crisi italiana e poi venni qui nel Sul Cis, proprio qui a Carbonia, a presentare un altro mio libro, sempre sulla condizione operaria, dove ricostruivo una tragedia sul lavoro avvenuta a Ravenna nel 1987. Quando mi sono imbattuto in questo territorio e nella sofferenza di questo territorio, ho deciso che questa situazione mi interessava. Quindi io in genere quando poi progetto un libro, torno tantissime volte nei luoghi e faccio una lenta messa a fuoco, studio, ho cominciato a guardare tutti i documentari, i film, i reportage fotografici prodotti nel tempo qui nel Sul Cisiglese, ho costruito il mio libro partendo da lontano, cioè dalla storia epica dei distretti minerari, le lotte operaie e nel raccontare la grande storia di una classe operaia che è stata una delle più forti di questo paese. Dopodiché mi sono avvicinato con la crisi delle miniere, all'apertura del polo industriale e alla sua crisi, raccontando soprattutto tutto quello che succede quando il lavoro finisce, e cioè l'effetto domino terribile, tremendo, che sconvolge la vita delle persone, stravolge la vita sociale e impoverisce le cittadine. Con un capitolo finale molto politico, dove sono andato in Islanda a vedere dove l'Arcoa ha delocalizzato una delle sue aziende, distruggendo una baia bellissima, patrimonio dell'umanità, per appunto testimoniare che gli effetti della globalizzazione hanno creato anche un tipo di capitalismo più aggressivo, più selvaggio. Roberto Puddu, segretario della Camera del Lavoro del Sul Cisiglesiente, oggi avete organizzato questa presentazione di un libro importante che parla delle problematiche della crisi del territorio. Sì, un libro che parla del nostro territorio, che dà molta voce a quelli che sono contro, che sono contro a prescindere, e quindi siccome noi ci confrontiamo con tutti, ci confrontiamo anche con l'autore di questo libro, che ha dato voce in quel libro a questi detrattori del lavoro del nostro territorio.